Dramma a Reggio Calabria, dove un cacciatore è stato trovato morto dopo ore di ricerche. Il suo corpo è stato individuato in località Trunca, in una zona dell'Aspromonte. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa nel tardo pomeriggio di domenica 1 ottobre. L'uomo era scomparso durante una battuta di caccia. I familiari, preoccupati perché non lo avevano visto rientrare, hanno fatto scattare l'allarme nel tardo pomeriggio di ieri. Carabinieri e vigili del fuoco lo hanno rintracciato solo a tardanotte, ormai cadavere. La salma si trovava in una zona impervia, frequentata soprattutto da appassionati di caccia al cinghiale. Sono in corso ora le indagini da parte dei carabinieri per verificare le cause del decesso e per ricostruire quanto accaduto.